ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video di pts oggi nuova linea che porto sul canale che vi faccio vedere siamo sulla linea numero 1 e la nostra direzione è il park nord autostrada e però siccome è lunedì oggi abbiamo anche da fare un una fermata dove c'è la chiesi questo per i lavoratori che lavorano lì alla chiesi quindi ci sono due o tre fermate poi siamo arrivati alle capolinea del park nord dobbiamo fare quella lì e quindi niente prima di partire con tutto vi dico che la linea 1 come già detto quando avevo fatto il video sulla linea 2 che la linea 1 con la linea si sono scambiati nel senso che la linea 2 si ferma a far capolino in sezione prima lo faceva la linea 1 con l'arrivo di questi autobus è stato cambiato tutto quindi per parma c'è un prolungamento dove non ci sono i cavi per per collegare le aste dei filobus il quartiere parma mia poi dal servizio dell'orario estivo è stato cambiato quindi l'1 prende il posto della linea 2 a far capolina qua al park nord dove dobbiamo andare noi adesso e la linea 2 a sud verso sud da parma da parma dove c'è la stazione fa capolinea dove non è mai cambiato in largo 8 marzo come già detto ma si accorcia mentre la linea 1 si allunga di qualche chilometro per arrivare a raggiungere il park nord questo con l'arrivo dei nuovi autobus filobus se fosse rimasto tutto come prima quindi con i filobus sulla linea 1 vecchi ci sarebbe ancora la linea 1 a fare capolina stazione e strada farnese in un prolungamento verso il capolinea di parma mia detto questo vi faccio vedere la tabella degli orari e anche la mappa noi partiamo dal capolinea di strada farnese delle ore 10 e 23 e dobbiamo essere al park nord alle ore 10 e 55 adesso vi faccio vedere la mappa del percorso che andremo a fare poi si può partire bene ecco il percorso purtroppo adesso la mappa per andare in strada farnese e non da strada farnese al park nord però comunque non ci sono di sensi unici che cambia tutto il percorso dentro la città ma verso la periferia e dentro la città rimane lo stesso percorso quindi questa mappa va anche bene con quella per andare in strada farnese quindi stiamo utilizzando questa per strada farnese quindi siamo qui da strada farnese dobbiamo passare dove c'è la sede dell'azienda dove c'è il parcheggio di tutti di tutti i mezzi che ha l'azienda il cimitero della villetta qua dove c'è la biglietteria in vixio quindi facciamo come la linea 11 la linea 6 quindi passiamo dentro barriera vixio e giriamo dentro dove c'è il teatro di parma al regio quindi passiamo proprio dentro il centro vero e proprio facendo un pezzo di diamazzini come fanno tutte le altre linee che attraversano per diciamo guardando la mappa in orizzontale la città quindi tagliano da crocetta a san prospero ad esempio crocetta a san lazaro per prendere il percorso che fa la linea 3 per poi passare dentro al regio non facendo la fermata in stazione come facciamo prima ma la facciamo quella fuori che c'è e in via trento via trento stazione la fermata che faremo quindi una di quelle via trento via palermo no è lì che c'è la nostra fermata della stazione diciamo è tutto san leonardo quindi giriamo dentro in via paradigna nella rotonda del centro torre andiamo qui in fondo poco prima del ponte che sopra passa sopra l'autostrada poco prima gli abbiamo la fermata della chiesi ritorniamo indietro e ci colleghiamo a questa rotonda barra svincolo per andare in l'autostrada e uscire dall'autostrada e arriviamo al park nord questo è il nostro percorso di questa linea che il nostro percorso di oggi è della linea che fa la linea 1 di solito tutti i giorni e vabbè poi ci sarebbe di qua il prolungamento che fa dalla strada farnese a parma mia il quartiere di parma mia è qua mentre nella nostra fermata dove facciamo capolinea e da dove partiremo quindi io sono già arrivato in strada farnese dove ripartire per tornare indietro e il nostro capolinea di partenza è in strada farnese quindi sono questi altri due chilometri diciamo in più poi c'è il campus quindi siamo anche vicini al campus con questa linea ma non ci interessa va bene così quindi adesso ci possiamo spostare sull'autobus ecco qui a voi il solaris trollino 12 utilizzato per la linea 1 e possiamo partire 4 fermate anche perché il video sentendo un po troppo lungo 4 fermate vabbè ci sarà più video parlato che alla guida dell'autobus ma va bene pazienza questo era un po per spiegare la linea 1 eccetera 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 comunque questo è il tabellone con la scritta park nord autostrada tra parentesi chiesi perché facciamo una fermata anche a chiesi lì come dicevamo la fermata da lunedì a venerdì un po come quando avremmo avrò l'occasione di portarvi a bordo della linea 21 di sabato la linea 21 non fa capolinea al campus ma lo fa al park sud comunque c'è anche scritto nei giorni dal lunedì a venerdì campus parma park sud nella linea 21 ovviamente è un 100% elettrico il trollino può andare anche a un'autonomia anche siccome 100% elettrica per fare qualche chilometro anche senza le aste collegate quindi una volta passato il percorso che ha bisogno delle aste staccati per andare al park nord e per andare a parma mia adesso noi ci abbiamo collegato perché siamo dentro il punto in cui ci sono le aste quindi possiamo tranquilli e dopo quando arriveremo verso il capolinea del park nord in cui dobbiamo staccarle perché non ci sono più comunque avremo modo di capire meglio questa linea 1 nei prossimi video i prossimi video però non so se è proprio il prossimo video che ormai uscirà settimana prossima prossimi video diciamo prossimamente perché bisogna vedere dove mi mettono su che tabella e che orari avrò per le prossime volte già a partire da domani se sarò su delle linee filo viare oppure no quindi questo non lo posso sapere però avremo modo di capire meglio quest'autobus no va bene detto questo con il nostro solari strollino 12 è tutto se vi è piaciuto questo video più spiegazione che in servizio sulla linea vi sia piaciuto se fosse appunto così lasciate un bel like un bel commento per dire la vostra una bella condivisione per far crescere questo video di visualizzazioni anche mi piace ma lasciamo stare dai cioè condividere è anch'esso importante però l'iscrizione lo è di più perché solo grazie alle vostre iscrizioni questo canale può aumentare può crescere può crescere ancora in altri casi in altri punti di vista ma in tutto diciamo anche è solo grazie a voi quindi si possono raggiungere degli obiettivi e se vi siete iscritti potete anche attivare la campanellina perché domani c'è un appuntamento importante sul canale ovvero la finale di champions league con il milan e poi sempre in questa settimana ci sarà per ben due giorni quindi ci saranno per ben due giorni consecutivi due video che non ritornavano da un bel po di tempo una serie che non ritornava da un bel po di tempo ormai è un anno e qualche giorno sto parlando di farming simulator 16 quindi iscrivetevi al canale che solo grazie a voi si possono raggiungere degli obiettivi importanti quindi detto questo ci vediamo domani